Ciao a tutti da Diego di Tecnophone.it, nuovo video registrato con Xiaomi Mi 9 risoluzione 4K e fotocamera grandangolare nella fotocamera grandangolare ci entrano decisamente molti più dettagli che in quella normale abbiamo una stabilizzazione che è elettronica, adesso vado un pochino a camminare vediamo anche un bel controsole sparato, l'apertura di questa fotocamera è f2.2 diciamo che dà il meglio di sé quando c'è luce, in condizioni di scarsa luminosità diciamo le prestazioni calano parecchio, vediamo un pochino anche la messa a fuoco che non è rapidissima però devo dire che riesce a mettere a fuoco senza toccare il display ritorniamo alla nostra inquadratura originale, chiaramente con una grandangolare riuscirete a fare delle riprese decisamente più ampie e più scenografiche diciamo da questo punto di vista. La fotocamera grandangolare a 16 megapixel di risoluzione ciao da Diego